Un appuntamento con Ford PlayStation 2 Sponsor UEFA Champions League E' tutto intorno a te 40 anni di sfide memorabili in Europa Nel mondo Per entrare nella leggenda Come squadra più titolata di sempre Sono in tre giocatori del Milan Vediamo il pallo destro E' palo Rijkaard Shepceko Tiro Ed è redde L'undici rossonero affronta i campioni sudamericani del Boca Coppa intercontinentale La finale Da Yokohama Boca Juniors Milan Domenica alle 10 Su canale 5 Tira fuori Il diavolo che c'è in te